Sono arrivati tutti, ci sono tutti, siamo sulla slitta di Babbo Natale. Mi riscuota anche la nere. Sta arrivando Babbo Natale per solo per inaugurare questa nuova edizione di giornata di Senni Scima. Siamo raggiungendo la rispettabile quota di 3-7. Da peggio la notte senza, se non ce ne vediamo. Adesso Babbo Natale, accogliamo con un applauso. Allora, abbiamo una piacevolissima attitudine. Guarda gli inizi tutti quanti e festeggiare in piazza con la sessione dell'albero l'inaugurazione delle giornate di Senni Scima. Oggi sarà una giornata molto speciale, perché è speciale il film distribuito da M2T, c'è anche il scendio di Natale, il 4 dicembre, è un amico molto speciale. Un film straordinario, stessi produttori del film, poi c'è il campione di un cast in Francia. È un film che è diverso e soprattutto commuove anche tanto. Quindi il tipico film natalizio assolutamente imperdibile. E speciali sono anche gli ospiti che noi avremo questa sera, perché avremo il cast del film Non c'è due senza te, un film tempo distribuito da M2 Pictures che uscirà in Italia in febbraio. Quindi vediamo proprio un'anteprima assoluta per la presenza del cast. Io vorrei passare subito la parola al sindaco di Sorrento di Natacuomo, il nostro padrone di casa. Buonasera a tutti. Come oggi siamo qui a presentare i partiti di ragazzi di Sorrento. Una serata speciale, inizio con le giornate professionali nel cinema e a voi dedicati a questo del film alla mia città. Forza Belen, Santiago e Stefano, vai! Vado a Tappelli! Vai! Grazie, sindaco, grazie. Assessore Mario Gertrula, un saluto. Grazie per avermi faccio ancora. Un saluto a tutti, grazie a Belen, grazie a Polta che sta qua a Sorrento.